Ehi la gente come va? Mamma mia che vergogna sto mondo. Lo sapete qual è la differenza delle scie chimiche tra chi sa le cose e chi invece sa le cose sotto un punto di vista serpentistico? Cazzo! Non essendo istruito, finendo il discorso santificamente, la gente continua a mettere il dito sulla piaga di Cristo. Ma io che ci tenevo a voi, la gente va picchiata male, in nome di Dio oltretutto. Ah, ecco perché si è diventato così deficiente Masago. Bah, deficiente secondo voi? Li picchi male, Dio non si incazza. Spariscono per sei mesi, senza uccidere. Perché i dieci comandamenti dicono, non uccidere, nessuno uccide nessuno. Però picchiato male non c'è scritto. Non è che sto dicendo stronzate. E io ribadisco che la terra è piatta. Ma i miei piaccazzotti in bocca, figli della falsità, fino a che non vi sanguinano gli abri. Gesù Cristo si riferiva ai poveri, agli umili, agli ultimi. Come sono io? Perché voi, proprio voi, che distruggete colui, tra virgolette io, che crede in Cristo. Ma Masago, con chi sta? Cioè il male, Satana, la finanza, i rock child, tutte le famiglie, Rockefeller, Bor, Mor, Mor, come cazzo se chi ha? La terra è piatta, testa da cazzi. Avete rotto i coglioni. Basta, però siete deficienti. Studi, 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 sai quello, sai quell'andro. Masago sa molto più di voi. Gli manca poco, cioè gli manca, non gli manca niente a me. Non è superbia, è concretezza. Ma voi pensate che Dio ci lascia in balia degli usurai? Come voi siete usurai, come gli ebrei, come i giudei. Teste di cazzo? Perché veramente io penso di aver capito e voi. Vaffanculo, non avete capito un cazzo. Punto e basta. A, B, C, uno più uno fa due. Le cose come stanno? Teste di cazzo? Vaffanculo. E comunque sia lotato Gesù Cristo e Maria.